buongiorno siamo giunti alla ventunesima lezione e con questa lezione proseguiamo la nostra analisi degli elementi dinamici che ci servono nei regimi variabili e in particolare ci dedichiamo al capitolo 13 dove si parla di doppi bipoli dinamici dopo aver visto i bipoli dinamici condensatore e induttore nella lezione precedente come sapete bene le cose si semplificano un po da un certo punto di vista passiamo alla slide successiva perché perché di doppi bipoli dinamici in realtà ne consideriamo uno solo quindi avrei potuto scrivere doppio bipolo dinamico e questo doppio bipolo dinamico che consideriamo è il doppio bipolo induttivo in particolare quello ideale come al solito consideriamo elementi ideali che se volete è l'estensione ai doppi bipoli del bipolo induttore induttivo che abbiamo già visto la volta scorsa perché solo questo qui non vediamo invece anche i doppi bipoli di tipo capacitivo in realtà si possono considerare questi doppi bipoli capacitivi però sono di importanza di applicabilità molto più limitata del doppio bipolo induttivo ideale per motivi che vedremo più avanti che rimane l'unico veramente importante da studiare ecco perché ci concentriamo solo su di lui e qua vedete già come lo rappresentiamo lo schema un po più elaborato superiore quello un po più sintetico inferiore ricorda ma attenzione ho detto ricorda quello di due bipoli affiancati in realtà c'è una grossa differenza due bipoli affiancati rimangono comunque due bipoli e basta mentre questo è un doppio bipolo e al suo interno avvengono dei fenomeni intimi completamente diversi da quelli del semplice bipolo e questo ce lo ricorda la l'area grigia che racchiude i simboli delle volute che ricordano i singoli bipoli ma al di là del simbolo rappresentativo che ce l'identifica immediatamente ciò che è importante sono le equazioni che ne descrivono il comportamento trattandosi di un doppio bipolo abbiamo bisogno di due equazioni una per porta e abbiamo a disposizione l'equazione controllata in corrente e l'equazione controllata non in tensione perché per ora non vogliamo parlare di tensione ma negli integrali di tensione quindi legami tra lambda e i a ciascuna porta a sinistra vedete l'equazione controllata in corrente che esprime appunto gli integrali di tensione delle due porte come combinazione lineare delle due correnti condizioni di idealità abbiamo queste semplici equazioni di appunto linearità e a destra abbiamo la rappresentazione opposta che esprime le correnti in funzione degli integrali di tensione corrente la porta 1 e corrente la porta 2 in funzione degli integrali di tensione di nuovo la porta 1 e la porta 2 di nuovo tramite una combinazione lineare bene come vedete appaiono dei parametri indicati nel primo sistema con l ed m queste sono le auto induttanze indicate con l e con m la mutua induttanza vi faccio notare ci tornerò su abbastanza spesso nelle prossime slide che appare lo stesso coefficiente m sia in posizione 1 2 questo qui in alto che in posizione 2 1 qua in basso quindi c'è una reciprocità implicita su cui ripeto torneremo siccome perché li indichiamo con l e poi anche con m questi coefficienti beh perché sono coefficienti che moltiplicati per una corrente ampere devono produrre un integrale di tensione una volta per secondo esattamente come succede nelle induttanze dei bipoli induttivi quindi sono coefficienti che si misurano all'unità di misura in errori come vedete indicato qua sotto e appunto utilizziamo un simbolo almeno per la posizione 1 1 la posizione 2 2 che è quello già noto dal mondo delle dei bipoli induttivi nell'altro caso appaiono analogamente dei parametri che sono l'inverso codimensionalmente area alla meno 1 e quindi indichiamo con il simbolo greco gamma maiuscolo che prendono il nome di autoinertanze e mutuoinertanze appunto secondo che siano sulla diagonale oppure fuori dalla diagonale anche in questo caso lo stesso simbolo gamma m appare in posizione 1 2 2 1 a ribadire quindi la reciprocità bene chiaramente stiamo parlando di doppi bipoli induttivi di doppio bipolo induttivo ideale quindi lo ribadisco l'idealità consiste nel fatto che quei coefficienti sono costanti sia le l che le m che le gamma li immaginiamo costanti non che sia proibito immaginare situazioni non ideali a parametri non costanti solo che le cose si complicano parecchio tra l'altro avrebbero anche un'importanza applicativa a queste situazioni per cui noi preferiamo non approfondire queste questioni all'interno del nostro corso di elettrotecnica immaginiamo solo coefficienti costanti bene vediamo un po di analizzare meglio cosa sono questi parametri riprendo i sistemi che vi ho appena introdotto nella slide precedente sono andato alla slide successiva la 3 e vediamo un po con le definizioni allora la definizione delle l ed m la ricaviamo con i soliti criteri allora per avere l1 dobbiamo fare sparire il secondo addendo della prima equazione m per i2 e questo si fa banalmente ponendo i 2 uguale a 0 quindi lasciando la seconda porta aperta in queste condizioni se facciamo il rapporto tra lambda 1 integrale di tensione alla porta 1 e i1 corrente alla porta 1 e si ricava proprio l1 e in modo del tutto analogo possiamo ricavare tutti gli altri parametri quindi vedete definizioni abbastanza ordinarie sono diventate ordinarie per noi e allo stesso modo ovviamente possiamo definire i parametri di inertanza che appaiono nell'altro sistema quindi ad esempio gamma 1 l'auto inertanza di porta 1 è i1 diviso lambda 1 quando lambda 2 uguale a 0 quindi quando l'integrale di tensione alla porta 2 rimane identicamente. Ribadisco il fatto che necessariamente consideriamo doppi bipoli induttivi reciproci ovvero in cui i due coefficienti mutui sono uguali e li indichiamo entrambi con m oppure se volete nell'altra matrice le due mutue inertanze sono uguali e li indichiamo entrambe con gamma m quindi quella che sarebbe dovuta essere una l 1 2 in questa posizione e una l 2 1 nell'altra posizione le chiamiamo con m e basta e analogamente per l'altro coefficiente per l'innertanza. Ovviamente queste relazioni sono suscettibili a scusate si è fatta anche questa precisazione ci stavo passando sopra per come sono definiti i parametri l 1 lo possiamo anche chiamare induttanza la porta 1 a vuoto perché se lasciamo la porta 2 a vuoto appunto e quindi è isolata esclusa il doppio bipolo ha disponibile solo una porta si comporta come un bipolo beh l 1 è proprio l'induttanza che si vede a questa porta e stesso discorso vale ovviamente per l 2 alla porta 2 rovesciando i ruoli evidentemente. Bene stavo dicendo che queste relazioni possono essere inquadrate in forma matriciale in modo abbastanza semplice basta porre il vettore degli integrali di tensione con modalità ormai direi note il vettore delle correnti di porta come abbiamo già fatto in altre occasioni parlando di doppi bipoli il definire la matrice delle induttanze auto e mutue la matrice delle inertanze auto e mutue dopodiché evidentemente i sistemi si scrivono come vettore lambda uguale matrice l moltiplicato per vettore i e viceversa vettore i uguale matrice gamma moltiplicata per vettore lambda e chiaramente i due sistemi matriciali sono le due equazioni matriciali sono una all'inversa dell'altra e quindi vediamo ma era abbastanza evidente anche prima che la matrice di induttanza è l'inversa della matrice di inertanza e viceversa anche e questo ci dice subito quali sono i legami che esistono tra i diversi parametri perché sono di tipo matriciale e assolutamente mai relazioni parametro un parametro corrisponde a un altro parametro dell'altra matrice quindi le vediamo qui le solite relazioni di inversione matriciale per una matrice 2 per 2 la prima riga dice come le inertanze si ottengono dalle induttanze la seconda come le induttanze si ottengono dalle inertanze faccio notare che se una m positiva la gamma m viene negativa e viceversa per colpa della presenza di questi meno ovviamente i delta l e i delta gamma che stanno a denominatore delle due relazioni sono i soliti determinanti delle matrici che vedete espressi lì a destra bene ribadisco ancora il fatto che il doppio bipolo è sempre reciproco quindi la reciprocità la vediamo nell'uguaglianza delle due m che vuol dire anche l'uguaglianza delle due gamma mutue e come già ho avuto modo di dire ovvero il fatto che le matrici sono simmetriche da un punto di vista matematico parliamo di simmetria delle matrici e la proprietà elettrica e la reciprocità e adesso passiamo a esaminare il comportamento energetico di questo doppio bipolo che stiamo esaminando quindi per ora esaminiamo il lavoro che entra nell'intero doppio bipolo quindi ad entrambe le porte nell'intervallo di tempo di t vi ricordo che le definizioni fin dall'inizio sono date con la convenzione degli utilizzatori che ha indicato chiaramente negli schemi che vi ho presentato e pertanto la potenza alle porte prodotto di tensione per corrente o corrente per tensione è entrante e moltiplicando per l'intervallo infinitesimo di tempo di t si ottiene lavoro entrante allora il primo addendo della prima espressione la potenza il lavoro anzi a infinitesimo la porta 1 il lavoro infinitesimo la porta 2 le potenze si esprimono come i per v come al solito e a questo punto vediamo ancora una volta che appare il prodotto di tensione v per intervallo di tempo di t che può essere espresso come de lambda il l'incremento infinitesimo di di integrale di tensione per il primo addendo e de lambda 2 ovviamente per il secondo addendo ma ciascuno di questi lambda 1 e lambda 2 in base alle equazioni del doppio bipolo induttivo quelle esplicitate in corrente intensi integrali tensione controllate in corrente chiedo scusa ci dicono che lambda 1 questa lambda 1 che appare qui scusate è questo lambda 1 qui è esattamente dato da questa espressione e questo lambda 2 è esattamente dato da questa seconda espressione sono le definizioni del doppio bipolo induttivo che abbiamo visto prima quindi sostituendo si ottengono queste espressioni qui possiamo differenziare invece che l'intera parentesi data la linearità della differenziazione portare il differenziale dentro alle parentesi e distribuirlo e quindi abbiamo d l1 una costante abbiamo detto ipotesi di idealità quindi mi rimane l1 per dei 1 più m pure una costante per dei due quindi da tutta questa espressione si ottiene questa differenziazione dentro parentesi e analogamente per il secondo addendo procede nello stesso modo a questo punto a questo punto possiamo distribuire la i1 e la i2 che stanno fuori dalle parentesi dentro alle parentesi e si ottiene questa espressione e questa e qui adesso è il caso di raccogliere diversamente quindi vedere che questo primo addendo lo possiamo ottenere da solo ed eccolo qua questo ultimo addendo lo possiamo ottenere da solo ed eccolo qua mentre i due addendi intermedi chiamiamoli così possono essere raccolti perché presentano la stessa m quindi diventano m per i1 per dei due due più i due per dei due ma a questo punto avviene un fatto molto interessante perché ciascuno dei tre addendi che abbiamo ottenuto è un differenziale esatto e quindi la loro somma è essa stessa un differenziale esatto cosa intendo con un differenziale esatto intendo che dl dl non è altro che il differenziale del primo differenziale esatto è il differenziale dl1 per i1 al quadrato fratto 2 e si ottiene esattamente questa espressione il secondo addendo è il differenziale esatto di m per i1 per i2 e il terzo addendo è il differenziale esatto di l2 per i2 al quadrato fratto 2 e si ottiene questo terzo addendo siccome la differenziazione è lineare si può raccogliere la differenziazione portando dentro parentesi un'unica parentesi tre addendi ed ecco che si ottiene questa espressione del differenziale esatto per chi avesse dei dubbi ricordo che differenziale esatto è un'espressione molto vicina a quella di derivazione infatti come vedete quelle che si ottengono per differenziazione sono poi le espressioni delle derivate a parte la presenza del dei e di volta in volta bene allora che portata a l'avere scoperto che il lavoro infinitesimo entrante nel tempo di t è un differenziale esatto ma ha un'importanza notevolissima perché significa che quando integriamo il lavoro infinitesimo che è applicato a un tempo infinitesimo di t su un intervallo di tempo finito è su un intervallo di tempo finito delta t beh che parte dall'istante t1 quando le correnti le immaginiamo nulle a un istante finale t2 quando le correnti assumono dei valori finiti non nulli beh il fatto che il lavoro infinitesimo sia un differenziale esatto ci permette di eseguire l'integrazione l'integranda è un ammette primitiva e questo vuol dire differenziale esatto e quindi e quindi possiamo integrare facilmente ecco quindi che l'integrale nell'intervalle di tempo finito della potenza integralmente entrante nel nostro doppio bipolo induttivo riscrivendo sostituendo le espressioni del lavoro infinitesimo p in dt che abbiamo ricavato nel slide precedente diventa questo qui l'integrale frazionato sui tre addendi a secondo di qual è la variabile in gioco il primo addendo gioca solo i 1 e quindi integro da 0 ai 1 nel secondo addendo gioca il prodotto i 1 per i 2 e quindi integro da 0 al prodotto i 1 per i 2 e nel terzo addendo gioca solo i 2 quindi integro da 0 ai 2 ricordo che parto da correnti nulle arrivo ai valori finiti questo mi sono proposto di fare ed ecco quindi che le primitive esistono sono banali da identificare la prima è l1 per i 1 al quadrato fratto 2 del primo addendo la seconda è ancora più facile m per i 1 per i 2 e la la terza è analoga alla prima eccola qua e quindi e quindi questo è l'integrale che viene fuori che va calcolato su integrali ovviamente definiti tra il valore iniziale 0 e il valore finale i 1 oppure i 2 oppure prodotto i 1 per i 2 e il risultato dell'integrazione è quella che vedete qua che è proprio ovviamente torno un attimo indietro l'espressione che stava dentro al simbolo di differenziazione a cui ero pervenuto nella equazione precedente viene fuori questo valore dall'integrale perché abbiamo integrato a partire da valori nulli di corrente ricordiamo altrimenti avrei una differenza tra due espressioni simili bene ma che significa tutto questo questo significa una cosa molto importante perché qui appaiono i valori finali delle correnti i 1 nell'istante finale t2 i 2 nell'istante finale t2 e il loro prodotto sempre nell'istante finale t2 quindi quello che ci dice questa espressione è che pur avendo sviluppato l'integrazione in un intervallo di tempo in cui le correnti hanno avuto una loro evoluzione istante dopo istante ciò che conta sono solo i valori finali delle correnti raggiunti alla fine a definire quanto lavoro è stato immesso e quando avvengono queste cose ovviamente siamo in presenza di fenomeni energetici estremamente importanti il lavoro dipende solo dai valori iniziali nulli ovviamente che non appaiono le equazioni e dai valori finali e quindi e quindi e quindi quando avvengono queste cose scopriamo che se applicassimo il processo opposto e quindi partissi dai valori finiti i 1 e i 2 e tornassi a valori correnti correnti nulle entrambe portate uguali a zero allora l'espressione del lavoro risulterebbe in questo secondo processo esattamente l'opposto di quella che abbiamo determinato nel primo processo il che vorrebbe dire che il lavoro tutto il lavoro che prima avevo assorbito viene totalmente erogato diventa negativo erogato e di valore esattamente opposto a quello prima in mese che vuol dire che nel primo processo non avevo sviluppato fenomeni dissipativi in cui il lavoro veniva sprecato in altre forme energetiche non recuperabili ma invece veniva accumulato completamente per poter essere appunto reso in un processo successivo a cui mi riporta alla condizione iniziale di correnti nulla quando avvengono queste cose significa che quel lavoro era stato immagazzinato dentro al doppio bipolo induttivo in una forma energetica che si chiama energia induttiva del doppio bipolo induttivo ovviamente è inutile che vi ricordi ancora questi discorsi quando avvengono questi fenomeni se queste energie sono energie di tipo potenziale conservative e ne abbiamo già incontrate per il condensatore per l'induttore se volete in ambiti più ampi corrispondono a non equivalente in campo gravitazionale non solo ovviamente questo significa una cosa di fondamentale importanza che il nostro doppio bipolo induttivo è in grado di eseguire una conversione energetica ben precisa assorbire lavoro e accumularlo in energia integralmente energia accumulata che poi può essere resa e quindi è un doppio bipolo perfetto per fare un'unica trasformazione in particolare è un accumulatore perfetto perché appunto accumula senza dissipare nulla e senza scambiare con mondi fisici diversi chimici meccanici eccetera resta tutto nell'ambito elettrico ed è anche un doppio bipolo passivo perché ovviamente si capace di erogare nel secondo processo come abbiamo detto qua sopra no eccolo qua tutto il lavoro precedentemente accumulato ma solo quello nulla di più e quindi è in grado di erogare al più il lavoro che ha in precedenza accumulato in forma di energia quindi è sia un accumulatore perfetto con doppio bipolo passivo bene c'è un'altra questione tutto questo funziona tutte queste analisi stanno in piedi perché ho immaginato fin dall'inizio che il doppio bipolo sia reciproco se non avessi assunto quella ipotesi non come scritto qui sotto vedete non sarei riuscito a dedurre che il dl lavoro infinitesimo è un differenziale esatto e quindi sarebbe andato a catafascio tutta la mia dimostrazione ecco quindi perché fin dall'inizio riteniamo imponiamo che il doppio bipolo induttivo deve essere reciproco perché vogliamo che rispetti questo comportamento energetico di essere un accumulatore perfetto e quindi necessariamente vogliamo che sia appunto reciproco ovviamente per definire completamente l'energia rimane un vecchio problema che vale sempre per le energie potenziali e questa lo è bisogna definirne il livello zero e allora in questo caso si impone che il livello zero è facile più facile che in altri ambiti gravitazionale ve ne ho parlato diciamo che il livello zero di energia induttiva sia quando le correnti sono nulle e allora a quel punto quella che abbiamo valutato prima a partire da correnti nulle non è solo l'incremento di energia ma è l'energia finale vedete che non c'è più delta qua davanti perché l'incremento a partire da zero corrisponde al valore raggiunto finale espressione dell'energia induttiva in termini di correnti uno i due parametri l questa si può dare in forma matriciale anche facendo il prodotto del vettore trasposto delle correnti per il vettore degli integrali di tensione la stessa cosa è solo l'espressione matriciale ovvero i trasposto li se volete moltiplicato per un mezzo c'è quel mezzo un mezzo davanti quello che è importante da queste due espressioni è riconoscere ma di fatto ce l'avevamo già arrivati che il lavoro l'energia chiedo scusa è una funzione di stato delle correnti una volta definito lo stato il valore delle correnti in un particolare istante conosciamo quanto vale la energia accumulata la funzione è una funzione di stato delle correnti ovviamente le correnti sono le variabili di stato quelle che esprimono con il loro valore istantaneo attuale quanta è l'energia accumulata all'interno del doppio dipolo induttivo si potrebbe ma non lo facciamo lo si intuisce da questa espressione che ho scritto qui che anche gli integrali delle tensioni sono variabili di stato però attenzione non lo sono le tensioni v quindi non hanno questa dignità questo nobiltà le tensioni nel caso del doppio dipolo induttivo non sono correlate allo stato energetico non è tutto qui possiamo fare una piccola precisazione merita di essere fatta a questo punto che cosa succederebbe se non avessimo assunto che l1 l2 ed m non fossero costanti ovvero se immaginassimo che il doppio dipolo induttivo non sia non sia ideale è una situazione ve l'ho detto prima che ha una validità applicativa perché ci trovano spesso situazioni di doppi dipoli induttivi che non sono ideali a parametri costanti noi non li studiamo però almeno un flash ve lo dico allora è ancora possibile ritrovare la perfezione energetica che vi ho appena descritto qui ovvero che il doppio dipolo induttivo è in grado di soltanto di accumulare energia poi di renderla anche nel caso in cui non sia non fosse ideale purché esistano le funzioni monotone crescenti e quindi invertibili che esprimono le correnti come funzioni degli integrali di tensione e viceversa le tensioni come funzioni degli integrali di corrente le une o le altre allora e poi deve valere la reciprocità anche in questo caso solo che qui è un po' più complicata da definire si definisce in modo differenziale sulle derivate miste che vedete scritte qua sotto di queste funzioni qua allora in questo caso il doppio dipolo induttivo è perfetto ma pur non essendo ideale le espressioni dell'energia ovviamente sono totalmente diverse da quelle che ho scritto qua su è molto più complicata bisogna vedere che funzioni che forme assumono queste funzioni ma non approfondiamolo non ci interessa basta avere un flash che esiste questa possibilità invece quello che adesso esaminiamo è questo torniamo alla nostra espressione dell'energia e vediamo che considerazioni possiamo farci su allora quando le correnti sono nulla l'energia è nulla poi faccio crescere le correnti e col processo che abbiamo visto immetto lavoro dentro nel doppio dipolo induttivo e quindi accresco la sua energia in altre parole se è zero il valore di energia quando le correnti sono nulle quando faccio crescere le correnti e metto lavoro per fare questo l'energia non può che crescere quindi assumere valori positivi detto in altre parole l'energia induttiva deve essere sempre non negativa maggiore uguale a zero sicuramente è zero quando le due correnti sono nulle e negli altri casi beh un po più complicato qui ma diciamo che in generale è positiva allora che cosa deve valere perché questa proprietà fondamentale sia vera bene nascono dei vincoli sui parametri l1 l2 ed m che esprimono l'energia che non sono solo i parametri descrittivi del legame tra tensioni integrali di tensione e corrente ma che come vedete scritto qui esprimono l'energia allora se la corrente i2 uguale a zero evidentemente sparisce il secondo addendo sparisce il terzo addendo nell'espressione dell'energia rimane solo il primo dove i1 è una corrente può essere positiva e negativa ma è al quadrato quindi col quadrato abbiamo un termine positivo e perché l'energia sia positiva necessariamente deve essere l1 maggiore uguale a zero viceversa 6 1 uguale a zero ripetiamo in modo analogo sulla seconda porta la considerazione che abbiamo appena fatto e si ottiene l2 maggiore uguale a zero quindi le due auto induttanze devono essere positive bisogna dire che questo ce lo aspettavamo no perché visto che abbiamo visto che le auto induttanze le possiamo interpretare come induttanze a una porta a vuoto l'abbiamo detto proprio all'inizio e le induttanze di un bipolo cioè in quel caso doppio bipolo si vede in entrambe con entrambe le porte con una o l'altra porta a vuoto come ridotto a funzionare da bipolo le induttanze di un bipolo devono essere positive allora quello che troviamo qui era un risultato scontato diciamo no bene tra l'altro il maggiore uguale un caso un po de genere perché l'uguale si potrebbe anche togliere un caso de genere che va da zero è di di un portato di interesse nullo dice l'ho lasciato solo per rigore matematico ma non per fatti di di validità applicativa di valenza applicativa bene allora non è finita qui però perché una volta che abbiamo esplorato i casi con correnti i1 i2 una nulla di volta in volta dobbiamo vedere cosa succede quando entrambe le correnti non sono nulle allora per fare questo visto che ormai i2 uguale a zero l'abbiamo risolto possiamo dividere tutta l'espressione dell'energia wl per i2 al quadrato eccola qua e quindi porre il rapporto i1 sui due uguale a x introdurre questa variabile generica matematica diciamo no allora i1 al quadrato sui due al quadrato diventa x al quadrato come primo addendo i2 al quadrato sui due al quadrato diventa 1 e i1 per i2 diviso i2 al quadrato diventa i1 sui due ovvero in altre parole l'espressione che otteniamo la disuguaglianza si trasforma in quella che vedete qui sotto qua abbiamo già incontrato qualcosa del genere parlando di passività di doppi di poli adinamici ovviamente i fenomeni sono radicalmente diversi perché quella era una condizione di passività qua stiamo vedendo invece un'espressione di energia accumulata ma la matematica è simile e allora riconosciamo che il primo membro che sta qui è l'espressione di una parabola in x e quello che ci dice la disuguaglianza è che la parabola che è certamente concava verso l'alto visto che l1 è positivo scritto qua sopra deve essere sempre positiva come facciamo a garantire che sia sempre positiva basta prendere il suo punto di minimo o il vertice e imporre che esso sia positivo tutti gli altri che sono più che hanno valore più elevato non possono essere che ancora più positivi e quello che si ottiene è che la condizione sul punto di minimo la vedete espressa qui vi risparmio i passaggi perché sono cose banali se non ci credete basta che facciate la derivata calcolate il minimo imponente che il minimo sia maggiore di zero salta fuori questa condizione ovvero salta fuori che la radice di l1 per l2 sia maggiore uguale qua c'è un m quadro passando alla radice del modulo di m ovviamente e allora sintetizzando vediamo che le condizioni perché il comportamento energetico sia corretto perché l'energia sia sempre maggiore uguale a zero sono che le auto induttanze siano positive e che la mutua induttanza in modulo sia minore della radice del prodotto delle auto induttanze queste tre condizioni devono essere sempre verificate faccio notare che dall'applicazione della condizione della terza condizione salta fuori il modulo per esigenza matematica e facendo la radice di m si ottiene il modulo di m così ci dicono i matematici ovviamente beh questa condizione effettivamente ha una importanza elettrotecnica non esistono vincoli sul segno di m quindi questa m qui potrebbe anche essere negativa e il legame deve essere espresso col modulo e che potrebbe anche essere negativa ve lo dimostro immediatamente l'avevo già commentata prima parlando dei legami tra mutua induttanza e mutua inertanza in una delle primissime slide se ricordate ma veneto anche una riprova adesso considerate il rappresentazione del doppio bipolo induttivo di destra immaginiamo che lì m sia positiva no qui tutte e due le porte sono convenzionate da utilizzatori come deve essere però in effetti noi abbiamo un grado di libertà perché potremmo anche invertire i riferimenti di tensione corrente tensione e corrente entrambi alla seconda porta e quindi mettere la freccia di corrente uscente dal morsetto superiore che vuol dire che entra dal morsetto inferiore e il più in basso e il meno in alto e andrebbe ancora bene se ci pensate perché è comunque una porta convenzionata da utilizzatore e noi il vincolo che abbiamo imposto fin dall'inizio è che le porte siano convenzionate da utilizzatore ebbene si dimostra facilmente con semplici passaggi che vi invito a provare da voi che se m era positiva in nel primo caso con le riferimenti che vedete a sinistra allora nel secondo caso m primo risulta negativa e esattamente l'opposto di m cioè scambiando i riferimenti di una porta e lasciando fermi quelli dell'altra si ottiene il risultato di rovesciare il segno del coefficiente di mutua indizione e a secondo dei casi può essere positivo o negativo mentre le l ve lo ricordo l1 delle due sono sempre positive in particolare qui abbiamo che l1 viene uguale anche nel segno l1 primo e analogamente per l2 bene detto questo a questo punto si pone un po la l'esigenza di evitare qualsiasi ambiguità nel segno di m come si fa ma si arricchisce un momentino di più se siamo in assenza di riferimenti il simbolo rappresentativo apponendo due puntini puntoni puntini li vedete qua sono ciascuno in prossimità di uno dei poli di porta vicino al polo superiore di porta 1 vicino al polo superiore di porta 2 nel primo caso nell'altro caso è messi uno in alto e uno in basso ecco lì allora a questo punto noi poi siamo indotti ad applicare i riferimenti e li possiamo mettere in due modi diversi come abbiamo visto prima allora come vengono utilizzati i puntini in un modo molto semplice eccolo qua se entrambe le frecce della corrente entrano dal polo dove c'è il puntone o il puntino o il punto allora m va presa positiva nel primo caso m va presa positiva scritta se invece mi riverto a mettere i riferimenti in modo che una freccia entra dove c'è il punto e l'altra invece entri dove non c'è il punto allora m va presa negativa e quindi questo mi lascia libero di mettere i riferimenti come voglio e poi di scegliere correttamente il segno di m ovviamente avendo posto fin dall'inizio i puntoni puntini punti a identificare questo comportamento altra questione che dobbiamo considerare è la disuguaglianza il terzo dei vincoli energetici torni dietro un attimino quello che vedete qua sotto nella slide 10 allora visto che vale questa condizione beh questa disuguaglianza la si può dividere per la radice di l1 per l2 ottenendo ottenendo un coefficiente eccolo qua che si chiama coefficiente di accoppiamento ovviamente visto che la disuguaglianza era c'era il minore uguale questo coefficiente di accoppiamento viene sempre minore uguale di 1 e quindi diciamo che è compreso tra il modulo è compreso tra meno 1 e più 1 il segno metto il meno 1 perché c'è m che si porta dietro sul segno come abbiamo visto e quindi potrebbe essere positivo o negativo ma il modulo non può che essere limitato tra 0 e 1 quindi il valore assoluto tra meno 1 e 1 e qui conviene distinguere due casi allora due casi limite uno è quando k raggiunge i valori limite più 1 meno 1 a secondo appunto del segno di m allora si dice che il doppio bipolo induttivo ha accoppiamento perfetto quando il coefficiente di accoppiamento è unitario in modulo l'accoppiamento è perfetto si dice anche che le porte sono perfettamente accoppiate attenzione perché l'uso della parola perfetto non ha niente a che fare con la perfezione energetica che abbiamo visto prima e che vale sempre quindi diciamo che anche se k non è uguale a 1 ovvero se l'accoppiamento non è perfetto il comportamento energetico è sempre perfetto scusate purtroppo c'è questo bisticcio questa ambiguità ma così si dice questa è la terminologia che si usa e quindi fateci attenzione ma siamo costretti ad usare in questo modo l'altro caso limite importante è quando k è uguale a 0 evidentemente no quindi quando se volete m è uguale a 0 anche per k è uguale a 0 quando m è uguale a 0 allora si dice che l'accoppiamento è nullo che le porte sono disaccoppiate e vi faccio notare che solo in questo caso possiamo dire che non abbiamo un doppio bipolo induttivo in realtà ma abbiamo un doppio bipolo induttivo de genere meglio ancora che corrisponde a due bipoli messi uno vicino all'altro in tutti gli altri casi due bipoli messi uno vicino all'altro non fanno un doppio bipolo induttivo perché appunto non sono in grado di creare accoppiamento mentre in generale l'accoppiamento cioè salvo il caso k uguale a 0. Bene allora questi sono i casi limite i casi reali di doppio bipoli induttivi si collocano in qualche modo a metà strada tra il valore limite 0 e il valore limite più o meno 1 e se siamo bravi riusciamo ad avvicinarsi parecchio anche ad 1 se siamo bravi a costruire bene i nostri doppi bipoli induttivi ma su questo magari torneremo più avanti bene a questo punto abbiamo sviscerato tutte le proprietà del nostro doppio bipolo induttivo tranne una in realtà lasciamo più avanti la vedremo abbastanza presto ed è venuto il momento appunto di ricordarci che per studiare il comportamento di un doppio bipolo quale è questo in rete abbiamo bisogno di scrivere equazioni di Kirchhoff sulle sue correnti e sulle sue tensioni e quindi dobbiamo ricordarci finora ce ne siamo dimenticati è andato tutto bene ma a questo punto dobbiamo ricordarci che ci servono anche le equazioni che coinvolgono le tensioni e le prime che vi propongo sono quelle controllate in corrente che danno appunto le tensioni come funzioni delle correnti come si fa? Beh prendiamo le equazioni di definizione già usate varie volte quelle che danno gli integrali di tensione ci ricordiamo che derivando gli integrali di tensione questo e questo si ottengono le tensioni per proprietà fondamentale della definizione di integrale di tensione applicazione del teorema fondamentale del calco integrale e quindi se deriviamo le espressioni precedenti ricordandoci che abbiamo a che fare con dopo i bipoli induttivi ideali dove l1 e l2 ed m sono costanti molto semplicemente si ottengono le equazioni che vedete qui sotto v1 uguale l1 per la derivata prima della corrente i1 più m per la derivata prima della corrente i2 e analogamente per la seconda equazione e queste sono evidentemente equazioni differenziali non c'è alcun dubbio che siano differenziali ci sono le derivate lineari certo che sono lineari perché gli efficienti sono costanti che esprimono le tensioni in funzione delle derivate delle correnti e vanno bene comode e li usiamo però non possiamo essere contenti soddisfatti di tutto questo perché è perché talvolta avremo bisogno anche di avere le espressioni inverse di queste ovvero le espressioni esplicitate nelle correnti che ci dicono quanto valgono le correnti note che siano le tensioni allora come si fa a risolvere questo quesito torniamo andiamo avanti ricordiamoci dell'altra espressione che vi ho presentato quella che esprime le correnti in funzione degli integrali di tensione tramite i parametri di inertanza non l'abbiamo mai usata ma adesso siamo costretti ad usarla se in questa espressione sostituiamo a lambda 1 e lambda 2 le loro definizioni ovvero gli integrali da meno infinito a t della relativa tensione abbiamo già risolto i nostri problemi ecco quello che si ottiene qui banalmente si ottiene questo e queste andrebbero già bene sicuramente da un punto di vista logico teorico vanno sicuramente bene ahimè hanno un problema applicativo perché essere costretti a integrare da meno infinito a t la tensione v1 da meno infinito a t la tensione v2 per calcolare prima l'uno e poi l'altro di questi integrali è una bella rogna è chiaro che meno infinito vuol dire da quando per la prima volta ho applicato una tensione alla porta 1 e alla porta 2 di quel doppio bipolo però questo vuol dire avere tutta la storia del componente sotto mano che è piuttosto insomma fastidioso sicuramente scomodo e quindi dobbiamo trovare un metodo più pratico e il metodo più pratico lo sappiamo bene qual è è immaginare che in un istante particolare t0 semplichiamoci la vita diciamo t0 uguale a 0 così abbiamo un bel numero tondo e quando parte la nostra osservazione quando facciamo partire il cronometro vuol dire che siano note in questi istanti i valori delle correnti i1 nell'istante 0 e i2 nell'istante 0 allora quanto esiste sussiste questa propria questa conoscenza possiamo immaginare di spezzare gli integrali di integrazione che dovrebbe essere da meno infinito a t in due parti prima da meno infinito all'istante t0 che è 0 appunto e poi da questo istante fino all'istante attuale finale t e allora facendo questo con modalità che conosciamo bene salta fuori che l'integrazione si semplifica nelle espressioni che vediamo qui primo addendo da i1 di 0 più gamma 1 per l'integrale appunto da 0 a t della prima tensione più gamma m l'integrale da 0 a t della seconda tensione e analogamente per il secondo questo è sicuramente molto più comodo perché appunto immaginando di conoscere i valori iniziali delle correnti questi sono poi autorizzato a fare l'integrale solo da 0 a t di una e dell'altra tensione ovvero durante il periodo di osservazione tutta la storia regressa tutto quello che è successo al mio doppio bipolo induttivo prima dell'istante 0 è riassunto in questo valore i1 di 0 e in questo valore i2 di 0 quindi vedete che questi due valori assumono un'importanza notevole sono i valori iniziali dal momento dell'osservazione in poi e guarda caso sono anche le variabili di stato ovviamente no perché sono le variabili che abbiamo detto esprimono il contenuto energetico ovviamente queste relazioni hanno una complicazione ed è che non sono lineari cioè se io raddoppio i valori di tensione istante per istante da 0 a t non vedo un raddoppio dei valori di corrente i1 e i2 per colpa proprio dei valori iniziali quando questi non sono nulli quindi quando il mio doppio bipolo induttivo ha valori iniziali non nulli nelle correnti le equazioni che danno le correnti in funzione delle tensioni perdono la linearità e questo in alcuni casi ve l'ho già anticipato può essere una brutta aronia da un punto di vista metodologico di analisi delle reti e quindi ci serve un trucco per venirne fuori un trucco legittimo ovviamente non un imbroglio il trucco consiste anche in questo caso in uno schema equivalente se ne possono pensare più di uno ma il più naturale più ovvio è quello che vedete qui a sinistra abbiamo un doppio bipolo induttivo eccolo che è dotato di valori iniziali di corrente non nulli vedete che indicati con i1 maiuscolo e 2 maiuscolo quindi questo schema è non lineare per le cose che vi ho appena detto un attimo fa ma posso sostituirlo con uno schema equivalente secondo i soliti criteri di equivalenza che vedete qui a destra dove compare ancora il nostro doppio bipolo induttivo proprio lo stesso di prima però stavolta scarico all'inizio con valori iniziali di corrente nulla come scritto qui e in più in parallelo ad ogni porta c'è un generatore ideale di corrente eccolo qui ed eccolo qua le cui correnti impresse j1 e j2 sono proprio i valori che in origine lo stato originale hanno le due correnti non nulle del nostro doppio bipolo induttivo quindi abbiamo un espediente elettrotecnico per aggirare il problema matematico della non linearità quando ne avremo bisogno bene detto questo adesso che conosciamo i legami tensione corrente posso parlarvi dell'ultima proprietà importante del doppio bipolo induttivo che non avevo ancora tirato in ballo e questa riguarda l'amplificazione e la non amplificazione o meglio prima parliamo di non amplificazione allora vediamo di esplorare cosa significa non amplificazione nel caso di questo doppio bipolo e ne vedete la rappresentazione con una rappresentazione circuitale rappresentata qui qui abbiamo la porta 2 a vuoto chiaramente e la porta 1 alimentata da un generatore ideale di corrente che evidentemente posto in queste condizioni è in grado di erogare potenza alla porta 1 che l'assorbe quindi ha un comportamento in assorbimento di potenza mentre la porta 2 ovviamente ha potenza nulla perché è a vuoto e quindi dovremmo dire che qua siamo nelle condizioni di applicare la non amplificazione dove c'è il generatore unico bipolo che eroga allora vediamo un po come si scrivono le equazioni in questo caso i secondi addendi mancano perché la corrente i2 uguale a zero e la corrente i1 coincide con j quindi questa è l'espressione delle tensioni alle due porte ne facciamo i moduli e poi ne facciamo il rapporto e si ottiene che v2 è uguale a modulo di m la presenza col modulo ce lo ricordiamo diviso l1 l1 non ha bisogno del modulo perché è sempre positiva per il modulo di v1 allora perché valga la non amplificazione bisogna che v1 sia più grande di v2 e questo vuol dire che in modulo ovviamente che l1 deve essere maggiore di m questo ci implica la non amplificazione e ovviamente si possono ripetere ragionamenti del tutto simili spostando il generatore ideale di corrente alla porta 2 lasciando aperta la porta 1 si ottiene in modo del tutto simile a questa condizione quest'altra queste due equazioni eccole qui queste sono le condizioni effettivamente di non amplificazione che non avevamo ancora visto vi faccio notare che se moltiplico membro a membro queste due e poi faccio la radice ottengo la solita vecchia relazione energetica la terza quella che lega le due l ad m che però qui ci appaiono separate le due condizioni non fuse in un'unica condizione allora vale la pena di fare una considerazione nel rispetto della condizione che ho appena citato eccola qui potrei anche avere uno di questi due casi o l1 m in modulo compresa tra l1 e l2 oppure viceversa m in modulo compresa tra l2 e l1 a seconda appunto che sia l1 più grande di l2 o viceversa può succedere sicuramente rispettando l'equazione energetica però se avviene questa cosa è vero che aspettata la relazione energetica che quella è importante però è violata l'equazione della non amplificazione e quindi scopriamo che quando sono vere queste due una o l'altra di queste due equazioni che vi ho scritto qua sotto doppie disuguaglianze che ho scritto qua sotto il doppio bipolo induttivo non rispetta la non amplificazione e quindi amplifica scopriamo che è capace di amplificare quando vale una o l'altra di quelle due disuguaglianze doppie disuguaglianze e quindi abbiamo a che fare con una condizione nuova i doppi bipoli induttivi che verificano quella o l'altra di quelle condizioni sono capaci di amplificare pur essendo passivi un pochino come avevamo visto era successo per il trasformatore ideale però ricordiamoci che il trasformatore ideale è a dinamico mentre questi sono oggetti dinamici. Bene detto questo possiamo affrontare l'ultimo argomento teorico che è importante per studiare i doppi bipoli induttivi che è la loro sintesi. Come farne una sintesi? Come farne degli schemi equivalenti? Possiamo dire le cose in entrambi i modi. Un modo con cui possiamo affrontare la sintesi è quello di utilizzare una rete di bipoli induttivi. Se vi ricordate nel caso del doppio bipolo resistivo a dinamico avevamo già fatto qualcosa del genere. Allora quanti me ne servono di induttori per fare la sintesi? Direi sicuramente tre perché, scusate qui c'è un errore in questa espressione, non doveva essere scritta così, sono L1, L2 ed M i tre parametri da sintetizzare, i tre parametri che identificano un doppio bipolo induttivo. Allora siccome tre sono i vincoli, i parametri da identificare, tre devono essere i gradi di libertà, le induttanze e quindi come le collego ovviamente a T oppure a P greco, sono concetti che abbiamo già visto, ripeto, per il doppio bipolo resistivo, per la sintesi del doppio bipolo resistivo. E allora ragionando come abbiamo fatto lì, possiamo vedere che applicando, se vogliamo calcolare la tensione V1 di questo schema a T, dove ci sono le induttanze LA, LB ed LC, allora quella tensione è la tensione su LA più la tensione su LC, quindi LA per D1 su DT, così si scrive la tensione di un bipolo induttivo, più LC per DIC su DT, ma ci ricordiamo anche che in questo nodo la corrente IC è la somma di 1 e 2, sostituendo e raccogliendo viene fuori questa espressione della tensione alla porta 1 in funzione delle correnti alla porta 1 e alla porta 2, ovvero questa espressione controllata in corrente, delle tensioni controllate in corrente. E analogamente si ottiene questa espressione qui sotto per la terza seconda tensione. Ma nelle equazioni del doppio bipolo induttivo tutta questa roba qui l'abbiamo sempre chiamata L1, questa roba qui che moltiplica i due l'abbiamo chiamata M e analogamente sotto e quindi salta fuori che L1 è LA più LC, L2 qua sotto è LB più LC e M, vista qua o vista qua è la stessa roba, è uguale ad LC. Ovviamente queste non sono le relazioni di sintesi perché il nostro scopo è dare un'espressione, calcolare LA, LB ed LC, ma sono immediatamente invertibili queste tre relazioni ed ecco quello che si ottiene LA, L1 meno M, LB è L2 meno M ed LC uguale ad M. Questa è la sintesi che funziona liscia liscia ovviamente nel caso in cui M sia positiva. Ma M può essere anche negativa, lo sappiamo benissimo, l'abbiamo visto e commentato cosa succede, come facciamo ad andare a posto le cose, beh così non può funzionare perché otterrei una LC negativa se M fosse negativa e questo non va bene perché le induttanze dei bipoli induttivi, dei bipoli induttori sono per definizione quantità positive. Allora, come possiamo fare? Beh non è difficile tutto sommato, guardate, perché basta invertire i riferimenti di una porta, è un giochino che abbiamo già fatto prima commentando il segno di M, ecco quello che si ottiene, le equazioni vado scritte in modo un po' diverso, appaiono dei meno che vedete qui, che vedete qui, che vedete qui e risolvendo come prima, vi risparmio i passaggi, le equazioni di equivalenza a cui si arriva sono L1 più M, ma con M negativa si fa in realtà una sottrazione tra i valori assoluti, L2 meno M, idem, e LC uguale a meno M, siccome M è negativa, LC uguale al modulo di M. E quindi vedete che se ne viene fuori abbastanza, in modo abbastanza liscio, mettendo a posto i riferimenti di una porta rispetto all'altra, appunto. Questo è lo schema T, abbiamo un'altra possibilità, lo sapete bene, è lo schema P greco che vedete qui e procedendo in modo perfettamente duale, o se volete facendo la trasformazione, non ve l'ho insegnata, di induttanze stella-triangolo, ma funzionano come quelle delle resistenze, allora lasciamo stare, procedendo in modo duale diciamo si ottengono le relazioni che vedete qui. Queste valgono con M negativo e con gamma M positivo, ma se fossimo nella situazione opposta, M positivo e gamma M negativo, basterebbe invertire i riferimenti e di invertire i segni come abbiamo visto poco fa per lo schema P. Rimane però un problema abbastanza importante, che tutto quello che ho fatto finora, torniamo al primo schema così le cose sono chiare, eccole qui, richiede che LA, l'ho detto anche un attimo fa, LB ed LC siano tutte positive. Guardiamo la prima relazione. Se M in modulo è maggiore di L1, questa diventa negativa. E non ne vengo fuori, certo, con la seconda ipotesi, perché comunque mi troverei in una situazione di non calcolo, di LA ed LB negativi. Come mai avviene tutto questo? Beh, tutto questo avviene per un motivo energetico insormontabile. I nostri schemi di sintesi funzionano, quelli che abbiamo visto fino adesso, con reti di induttori fino a che L1 in modulo è maggiore di M ed L2 in modulo è maggiore di M. Ma queste sono le condizioni di non amplificazione. Quando queste condizioni vengono violate, quando appunto M in modulo è maggiore di L1, maggiore di L2, allora andiamo in crisi perché siamo in presenza di un doppio bipolo induttivo che verifica una o l'altra di queste condizioni, ovvero che è capace di amplificare. Ed ecco quindi qual è il problema. Se il doppio bipolo induttivo amplifica, ovvero se vale questa relazione oppure vale questa, non c'è verso di farne la sintesi con bipoli induttori e basta. Perché i bipoli induttori sono bipoli passivi, sono bipoli, e le reti di bipoli passivi non sono capaci di amplificare. L'abbiamo visto e rivisto e ci sono i teoremi di non amplificazione che ce lo dimostrano. Pertanto dobbiamo concludere che gli schemi AT e AP greco, che abbiamo visto poco fa, funzionano soltanto se il nostro doppio bipolo induttivo non amplifica. Se invece amplifica, bisogna procedere in modo radicalmente diverso. Ecco lo che vediamo adesso. Allora, facciamo anzitutto l'ipotesi di essere in condizioni di accoppiamento perfetto, quindi che il modulo di K sia uguale a 1, ovvero se volete che K sia uguale a più o meno 1. Allora, se è vera questa condizione, vi ricordo che l'espressione di K è M diviso la radice di L1 su L2, o se volete M al quadrato diviso L1 su L2 vale 1, allora possiamo definire N che è uguale a L1 diviso M, oppure anche M diviso L2. Si può dare questa definizione, vale questa uguaglianza, proprio per K è uguale a 1, e ciascuno di questi due rapporti lo battezziamo N. Se facciamo il prodotto membro a membro, abbiamo L1 per M diviso M per L2, si semplifica M ovviamente facendo il prodotto via N quadro, e quindi si può dire anche che N è uguale al segno di M, per tenere conto del più o meno, moltiplicato per la radice di L1 su L2. Va bene anche questa terza equazione. Sono tre modi diversi di definire questo parametro N che tra un attimo ci sarà molto utile. Ed è una definizione univoca ovviamente. Ecco, dall'ultima di quelle equazioni che vi ho fatto vedere, si ricava evidentemente che facendo il quadrato, N quadro è uguale a L1 diviso L2, oppure L1 è uguale ad N quadro per L2. E su questa torneremo presto, ricordiamocela per ora, no? Allora, una volta che abbiamo definito il nostro parametro N, possiamo fare un giochino con le equazioni controllate in tensione, in corrente delle tensioni. Ed eccolo qua, qual è il giochino. Allora, questa è l'equazione che abbiamo scritto prima. Raccolgo L1 e quindi mi resta tra parentesi di D1 su Dt più M diviso L1 per D2 su Dt. Ma M diviso L1, lo vedete scritto qui, è proprio 1 su N. E quindi riscrivo la prima equazione in questa forma. Prendiamo la seconda equazione, eccola. Raccolgo M stavolta e quindi mi rimane tra parentesi D1 su Dt più L2 diviso M per D2 su Dt. Ma L2 diviso M, eccolo qua, è ancora una volta, ahia, è ancora una volta 1 su N. E quindi ottengo questa espressione. E qua le cose si fanno interessanti perché vedete che i due termini tra parentesi di queste due equazioni sono uguali. Allora, io posso rielaborare questo sistema ricavando un sistema nuovo, diverso ma equivalente a questo perché è dedotto da questo, che vi presento subito. La prima equazione la ottengo facendo il rapporto della prima che ho qui, di questa, su questa. E ovviamente questo equivale a V1 diviso V2. semplificano i termini tra parentesi e ottengo L1 su M, che guarda caso è proprio N. Quindi la prima equazione è V1 uguale a N volte V2, facendo il rapporto delle due. Poi me ne serve un'altra di equazione perché un sistema di due equazioni lo posso trasformare, sì, ma deve essere comunque trasformato in un sistema di due equazioni. Allora la seconda equazione la ottengo in questo modo risolvendo la prima equazione, questa, in I1. Quindi prima in D1 e poi integrando in modo da passare dalla derivata temporale di I1 a I1. Facendo questo passaggio ovviamente devo dividere per L1 la V1 che sta al primo membro, così sparisce questo L1 e poi portare a primo membro oppure se volete scambiare primo con secondo membro il secondo addendo che è 1 su N per D2 su DT ovviamente passando dall'altra parte su un segno meno. Ecco, una volta che questa espressione viene integrata nel tempo tra meno infinito e T D1 su DT diventa I1 e basta D2 su DT diventa I2 e basta e l'ultimo addendo ovviamente ho da dove fare l'integrale tra meno infinito e T della tensione 1 che la vedete indicata qui. E allora a questo punto questa seconda equazione mi presenta la corrente I1 come somma di due addendi uno lo chiamo I1-2 ed è questo e l'altra la chiamo I1-mu mi dispiace che ci sia di mezzo questo regolo rosso che non riesco più a eliminare posso cancellare cancella sì ecco, perfetto secondo addendo I1-mu che è tutto questo d'accordo? Direi di sì. Bene, ma che cosa sono queste equazioni che ho ottenuto? Allora, da un certo punto di vista sono equivalenti a quelle di partenza quindi continuano a descrivere il mio doppio bipolo induttivo con accoppiamento perfetto da cui sono partito però le posso anche interpretare diversamente perché guardate se considero solo eccoci qua questo pezzo di sistema ovvero la relazione tra le tensioni e la relazione tra la corrente I1 e la corrente I1-2 beh, quello che scopro lì che riconosco è paro paro il sistema di equazioni che rappresenta che descrive un trasformatore ideale con rapporto di trasformazione n in più c'è questo addendo che è l'espressione della corrente di un bipolo induttivo quella controllata in tensione l'abbiamo vista nella lezione precedente sottoposto a tensione I1 e le due correnti si sommano I1-I2 per dare la corrente I1 totale quindi queste due equazioni insieme rappresentano esattamente questo schema equivalente vedete che c'è il trasformatore ideale eccolo qui concorrente alla porta 1 I1-2 esattamente questa con rapporto di trasformazione n ovviamente il legame tra le tensioni è quello che deve essere e inoltre c'è un bipolo induttivo L1 L1 che è sottoposto a tensione V1 eccola qua eccolo qui il suo più e il suo meno sono proprio alla totale tensione di porta 1 che ha corrente I1-μ perché così vuole l'equazione del bipolo induttore e le due correnti si sommano in questo nodo come correnti uscenti per dare la corrente di trante che è proprio la I1 quindi il sistema che ho ottenuto corrisponde sì al doppio bipolo induttivo di partenza con accoppiamento perfetto ma corrisponde anche interpretabile come l'equazione del sistema di equazioni di questo circuito in altre parole questo è un circuito equivalente uno schema equivalente del doppio bipolo induttivo con accoppiamento perfetto capace di amplificare non è tutta qua perché ovviamente potete dirmi ma perché sei andato a risolvere la seconda equazione che hai ottenuto torno indietro scusate eccoci qua l'hai ottenuta risolvendo questa equazione della corrente I1 perché ad esempio non hai usato questa equazione per risolvere la corrente I2 che c'è pure anche lei eccola qua e ovviamente l'obiezione è legittima l'una e l'altra equazione possono allo stesso modo essere rielaborate come ho fatto poco fa per la sola prima equazione questa e allora facendo questo si ottiene un'espressione alternativa del sistema dove compare I2 esplicitata in I1 e V2 invece che I1 esplicitata in I2 e V1 la quale è altrettanto legittima nell'interpretare il comportamento del nostro doppio bipolo induttivo con accoppiamento perfetto ma nel quale nel quale eccolo qui appare un induttore L2 eccolo qui L2 sottoposto a tensione V2 quindi alla seconda porta quindi entrambi questi circuiti equivalenti sono sintesi schemi equivalenti del doppio bipolo induttivo da cui siamo partiti con accoppiamento perfetto e visto che l'equivalenza è transitiva ma sono anche equivalenti tra di loro chiaramente e questo non è assolutamente sorprendente perché abbiamo già notato ve l'ho detto prima che vale la relazione L1 uguale N quadro per L2 e questa se al posto di L ci mettete una R la conosciamo già perché è l'equazione del trasferimento di resistenza proprietà del trasformatore ideale che vale evidentemente anche per le induttanze quindi avere un'induttanza L2 alla porta 2 questa è la stessa cosa che avere un'induttanza L1 alla porta 1 che vale N quadro L2 che è esattamente quello che sappiamo valere quindi abbiamo una riconferma del fatto che i due schemi sono equivalenti ovviamente non finisce tutto qui perché si potrebbe benissimo anzi scusate perché non tutti i doppi bipoli induttivi che amplificano un accoppiamento perfetto quindi dobbiamo anche risolvere la rogna dell'accoppiamento imperfetto cioè fatto che K sia minore di 1 ma quando avviene che K è minore di 1 siccome K è M diviso la radice di L1 su L2 avviene che è minore di 1 quando il prodotto L1 L2 che sta a denominatore è troppo grosso quindi sono troppo grandi l'una o l'altra o tutte e due allora come possiamo venirne fuori possiamo immaginare ragioniamo su L1 che essa sia formata da due addendi uno che è quello che mi darebbe la perfezione l'accoppiamento perfetto e un secondo addendo che è quello che è di troppo di eccesso allora il primo addendo che dà la perfezione questa è la condizione di perfezione ovviamente 1 uguale M4 diviso L2 per L1 perfetto oppure esplicitata in L1 perfetto è questa e L1 di eccesso di sta per dispersione in realtà è quello che la quota parte in più rispetto alla condizione di perfezione eccole qui quindi due addendi allora una volta che abbiamo ottenuto questa impostato questa scomposizione possiamo anzitutto individuare un nuovo coefficiente di rapporto di trasformazione che coinvolge L1 perfetto e non L1 totale L2 ed M come vedete qui eccole qui le definizioni e ottenuto questo possiamo riscrivere le equazioni del doppio bipolo induttivo in questa forma allora la novità rispetto alla situazione precedente è che compare questo addendo una volta che abbiamo proposto la scomposizione lo ripeto di L1 totale in L1 P più L1 D compare questo addendo tutto il resto identico a prima e allora allora significa che se guardo le equazioni residue cioè tutte quelle tranne la parte circondata in rosso ho esattamente la situazione preesistente in cui gioca un L1 perfetta in più c'è questo addendo di tensione V1 quindi ho alla V1 perfetta che corrisponde a tutto questo addendo una V1 addizionale che corrisponde a cosa? Beh ma questa è l'equazione di un bipolo induttivo e basta che ha induttanza L1D ed è percorso da corrente I1 quindi dove la trovo questa tensione? Beh la trovo in questo schema equivalente qui è quello che già avevamo ricavato fino a qua è quello che già avevamo ricavato ma in più vedete che in serie alla porta 1 c'è l'induttanza L1D questa che è percorsa dalla corrente I1 questa ovvero questa e che aggiunge un termine di tensione V1D come dice questa equazione eccolo qua quindi così abbiamo risolto il problema dell'accoppiamento imperfetto aggiungendo questa induttanza di dispersione alla porta 1 ovviamente ho usato uno dei due schemi che vi avevo ricavato prima ma è altrettanto legittimo usarlo anche con l'altro schema e quindi ottenere questa schema equivalente che va pure altrettanto bene vedete c'è la stessa induttanza di dispersione alla porta 1 ma invece di avere L1 perfetto alla porta 1 del trasformatore ideale ho L2 alla porta 2 del trasformatore ideale come prima ovviamente in questo modo ho attribuito l'eccedenza solo ad L1 però altrettanto legittimamente l'avrei produta attribuire ad L2 quindi immaginare L2 come somma di due addendi perfetti di due addendi uno perfetto e uno di dispersione e in questo modo avrei ottenuto degli schemi perfettamente equivalenti dove compariva un L2 alla porta 2 invece che un L1 di dispersione alla porta 1 un L2 di dispersione ovviamente poi va anche detto molto rapidamente che in realtà si può fare anche qualcosa di più articolato e attribuire l'eccedenza un po' a L1 un po' a L2 il che vuol dire che in questo caso appaiono due induttanze di dispersione le vedete qui una qui e una qui che sono appunto si fanno carico dell'eccedenza un po' da una parte un po' dall'altra e ovviamente c'è il solito L1 perfetto qui oppure L2 perfetto qui come abbiamo già visto in precedenza quindi abbiamo tutta una serie di circuiti equivalenti c'è un'enorme flessibilità nel gestire queste cose e si usano l'uno o l'altro secondo dell'esigenza bene in questo punto con pochi minuti vedo di terminare la lezione è stata piuttosto lunga ma l'argomento era abbastanza complesso poi ovviamente bilancerò le cose la prossima volta per parlare per parlare dei doppi bipoli mutuinduttori reali che cosa ha a che fare tutta l'idealità che abbiamo visto fino a qui con le situazioni reali beh innanzitutto capire quali sono i mutuinduttori o doppi bipoli induttivi reali che ci interessano i più importanti di tutti sono sicuramente i trasformatori ad induzione che hanno un ruolo importantissimo nelle applicazioni di potenza di rete di macchinari di dispositivi eccetera come sono realizzati sono parenti dei bipoli induttori che abbiamo reali che abbiamo già in questo modo di incontrare con la differenza che hanno due avvolgimenti due circuiti induttori di N1 ed N2 spire fortemente accoppiati magneticamente l'uno all'altro quindi tipicamente disposti su uno stesso con asse equassiale qua ne vedete uno con un conduttore di sezione più grosso esterno e ne intuite un altro con conduttore di sezione più sottile all'interno separati tra di loro da un opportuno mezzo isolante per impedire scariche e cedimenti elettrici sono realizzati tipicamente con ottimo materiale conduttore rame alluminio e sono anche dotati di isolamento per non creare dei cortocircuiti nel spira dopo spira quindi sono realizzati ad esempio con un conduttore filiforme in rame dotato di uno smalto isolante verniciato con smalto isolante gli avvolgimenti sono avvolti quasi sempre su un nucleo ferromagnetico quindi di lamierini ferrosilicio di ferrite che come abbiamo già visto nel caso dei bipoli induttivi è in grado di canalizzare e intensificare l'induzione magnetica il campo magnetico creato e al tempo stesso anche di migliorare l'accoppiamento tra gli avvolgimenti avvicinare il coefficiente di accoppiamento ad uno anche se ad uno non ci si arriva ci si può andare però molto vicino allora quello che succede qui è che quando i due avvolgimenti sono dotati di corrente essi concatenano anche un flusso di induzione magnetica fi c1 e fi c2 non so chi è qui c'è e qui deve essere un 2 e questi due flussi concatenati corrispondono proprio agli integrali di tensione ed ecco quindi che le equazioni si scrivono nella forma che vedete qui dove appunto al posto delle lambda comparino i flussi concatenati i coefficienti l1 e le 2 ed m a questo punto possono essere calcolati perché conosciamo la geometria e dipendono appunto da come è fatto da come è configurato il trasformatore e dalle proprietà dei mezzi proprietà magnetiche dei mezzi coinvolti trasformatori di piccola potenza ne vedete qui alcuni esempi potenza limitata probabilmente il più grosso di questi potrà arrivare a una potenza di 1 kW per darvi un'idea altrimenti sono potenze che sono frazioni di kW e trovano applicazione tanti dispositivi diversi ma la cosa importante qui è riconoscere che essi sono in realtà non ideali perché per i fenomeni per i materiali che utilizzano sono sedi di fenomeni dissipativi non sono mai accumulatori perfetti e basta si accumulano però anche dissipano quali sono le dissipazioni anzitutto le perdite omiche negli avvolgimenti gli avvolgimenti primario secondario i due avvolgimenti sono realizzati in ottimo conduttore ma non un super conduttore e quindi hanno una loro resistenza allora per tenerne conto bisogna aggiungere negli schemi equivalenti che abbiamo detto poco fa dei resistori in serie alle porte in modo che quando è presente la corrente I1 o I2 essi tengano conto delle dissipazioni omiche che avvengono negli avvolgimenti e poi dobbiamo tenere conto anche del nucleo ferromagnetico che ha delle ottime doti che abbiamo detto di intensificazione dell'induzione ed anche di aumento dell'accoppiamento ma che però l'avevo già descritto è sede di fenomeni dissipativi per isterisi per correnti parassite e anche questi per essere descritti si possono descrivere introducendo nello sistema equivalente è un opportuno resistore vedete questo resistore qui posto in parallelo all'induttanza L1 perfetto in questo caso alla prima porta si potrebbe fare anche alla seconda porta con un altro schema equivalente ne tengo conto opportunamente ecco quindi che abbiamo utilizzando i simboli e le equazioni di bipoli ideali perfetti resistori che sono dissipatori perfetti dopo i bipoli induttivi trasformatori ideali induttanze eccetera ottenuto schemi equivalenti di componenti reali di trasformatori reali concludo facendovi vedere rapidamente le fotografie di trasformatori di taglia nettamente più grossa con potenze di decine o centinaia di kilowatt in questo caso tipicamente si tratta di sistemi trifasi e quindi non abbiamo un solo primario e un solo secondario ma abbiamo tre primari e tre secondari accoppiati a due a due a formare ciascuna di queste colonne nel caso di grandi potenze addirittura di centinaia e migliaia di kilowatt queste macchine possono assumere dimensioni anche molto importanti come vedete in questo caso e non è nemmeno il più grosso che si può immaginare questo trasformatore a destra che ha una potenza di alcuni megawatt di vari megawatt di potenza bene e con questo abbiamo concluso la lezione grazie grazie